Tra l'altro sappiamo benissimo cosa è successo in settimana, io ho cercato non solo di ricordarlo ma di onorarlo anche attraverso questo piccolo cimiglio, perché non è più un mistero che l'eroe sia per me l'eroe indiscusso, mi dai questo assist massimo, ti ringrazio tantissimo, auguri Michel, sei colui che già era leggenda mentre scriveva la storia.